Buongiorno e benvenuti a questa lettura del canto quarto del Purgatorio promossa dalla società dantesca italiana. Il canto che leggiamo oggi eh non ha una fisionomia particolarmente connotata nella mente dei lettori, è strettamente collegato a eh quello che lo precede e occupato al centro da un'ampia spiegazione di carattere dottrinale. A renderlo celebre è soprattutto l'incontro del tutto speciale con l'anima di Belacqua. Il canto mi sembra utilmente divisibile almeno a scopi esegetici in quattro parti. Sono state proposte anche su divisioni diverse che tuttavia appaiono come sostanzialmente strumentali all'interpretazione del canto che invece presenta elementi interni di circolarità e ricorsività piuttosto significativi. I primi diciotto versi sono ancora legati come dicevo a quanto avvenuto nel canto precedente ed hanno luogo anche in questo caso un'impegnativa precisazione di tipo dottrinale. La seconda parte descrive la difficile salita alla montagna dai versi diciannove eh al cinquantuno. La terza parte ehm ha presenta questo colloquio fra Dante e Virgilio anch'esso di eh carattere squisitamente dottrinale e piuttosto impegnativo. Eh la parte va dai eh dal verso cinquantadue al verso novantasei e si propone come cruciale per la comprensione della cosmologia dantesca nel suo complesso, della collocazione del regno del purgatorio e anche dell'intera vicenda di Dante che viene riconfigurata entro coordinate universali. Chiude il canto l'incontro con Belacqua eh a cui fanno seguito ultimi gli ultimi quattro versi in cui si segnala la ripresa del cammino da parte di Dante e Virgilio. Questi primi versi si inseriscono appieno nel fluire narrativo della vicenda. Dante è appena terminato il colloquio con Manfredi che lo ha coinvolto al punto che non si è accorto del passare del tempo. Naturalmente il caso dell'anima di Manfredi, personaggio storico di primissimo piano, nonché anima salva nonostante la scomunica, è del tutto eccezionale, ben giustifica l'attenzione esclusiva su eso. Per contro l'esperienza di totale rapimento delle faccata sensoriali è del tutto comune. Eppure Dante la descrive con una precisione e puntualità terminologica che spiccano e che rendono anche eh i versi di non facilissima decifrazione. Come vedremo Dante coglie l'occasione non solo di specificare un certo funzionamento dei processi cognitivi eh ma anche di prendere posizione su un problema estremamente discusso nella seconda metà del docento quello dell'unicità o pluralità delle forme sostanziali che cercheremo di capire un po' meglio. Eh do una parafrasi di questi versi. Quando per il piacere o il dolore recepito da una delle sue facoltà l'anima si concentra totalmente su quella facoltà percettiva al punto da non avvertirne più alcuna altra. Quando insomma non si percepisce nulla perché si è troppo concentrati su qualcosa salto ora al verso sette. Quando si sente o vede qualcosa che fa concentrare l'anima totalmente su essa il tempo vola senza che ci si accorga perché una è la potenza che ascolta percepisce lo scorrere del tempo ed è l'anima intellettiva diversa da quella che in quel momento occupa l'anima nella sua interezza. Quest'ultima è come legata tutta presa mentre l'altra è libera inoperosa. Di questo rapimento feci davvero esperienza ascoltando quello spirito e provando meraviglia al punto che il sole era salito di ben cinquanta gradi cioè erano passate le nove del mattino e non me ne ero accordo. Fu a quel punto che il gruppo di anime in cui è Manfredi e che sta accompagnando Dante Virgilio all'attacco della salita arriva alla metta ovvero al punto in cui i due pellegrini possono iniziare l'ascesa del monte. Ai versi cinque e sei che ho provvisoriamente saltato nella parafrasi Dante puntualizza che proprio questa esperienza di rapimento dei sensi in cui non si non si percepisce null'altro che quello che in quel momento attrae attira l'attenzione proprio questa esperienza smentisce quello error che crede un'anima sovr'altra in noi si accenda. Si tratta della dottrina qui giudicata erronea che postula la relativa indipendenza reciproca delle facoltà dell'anima che lo ricordiamo erano definite come vegetativa, sensitiva e razionale. Si tratta di una dottrina professata in particolare pur con varianti da teologi francescani e da alcuni maestri delle facoltà delle arti. Non è il caso in questa sede di approfondire la questione in sé. Importa piuttosto sottolineare almeno due aspetti. Il primo è che Dante sfrutta la descrizione precisa di un'esperienza percettiva comune per smentire attraverso il richiamo a essa una determinata posizione riguardo a una questio filosofica tipica dell'epoca. Noteremo altresì che la smentita è piuttosto tranchant e come ha rilevato Alessandro Ghisalberti non riflette la complessità e raffinatezza del dibattito coevo. Aggiungeremo comunque che il dettato ricalca un'aggiuntura della trattatistica latina il quodest contra errorem. Si tratta di una modalità di calco sul latino tipica del volgare argomentativo di Dante. In seconda istanza noteremo che il passaggio rapidissimo si collega a un altro tema di ambito psicologico introdotto nel canto precedente entrambi se troveranno poi svolgimento compiuto nella cruciale spiegazione di Stazio in Purgatorio 25. Si ricorderà infatti come nel terzo canto l'assenza dell'ombra di Virgilio che naturalmente è un'anima separata dal proprio corpo defunto avesse indotto lo stesso poeta latino a introdurre il tema di come facciano le anime dei morti a soffrire tormenti. Altra a questo dibattuta all'epoca e lasciata aperta da Virgilio con tanto di reprimenda agli uomini matti che pensano di poter comprendere i misteri divini e con tanto di esortazione ad accontentarsi del quia ovvero di prendere atto dello stato delle cose senza per forza pretendere di spiegarle. È evidente come questo nucleo di problemi di stretta pertinenza psicologica investa la stessa invenzione dell'aldilà e la possibilità di incontrare le anime dei morti costituendo dunque il sostrato dottrinale inevitabile di tutta la drammaturgia dantesca. Terminata questa prima parte il canto prosegue con una descrizione piuttosto lunga che va dal verso 19 fino al verso 51 fondamentale per la costruzione del paesaggio del secondo regno. Una descrizione precisa e di carattere quasi alpinistico di una salita straordinariamente impervia addirittura ben oltre i 45 gradi ci dice Dante e di cui non non si vede la fine perché la montagna che è definita Sasso ehm è è tanto alta che lo sommo era alto che vincea la vista cioè non si riesce a vedere la cima di questa montagna. Dante ci spiega tutto questo con precisione ancora una volta geometrica facendo riferimento proprio ad angoli precisi come aveva fatto poco prima per dire di quanto si era alzato il sole. Si capisce dunque come una salita tanto impervia e ripida imponga un'andatura carponi e un rilevante sforzo fisico tant'è che Dante dice mi sforzai carpando. Per descrivere con efficacia la situazione Dante è posto un paragone per superamento rimasto celebre con alcuni luoghi appenninici particolarmente impervi ma comunque raggiungibili mentre qui convien con voli dice Dante. I luoghi nominati sono nella seconda eh citazione San Leo alle spalle di Rimini, Noli al centro della riviera Ligure di Ponente e l'appennino Ligure nella sua interezza tra Lerice e Torbia era già stato richiamato nel canto precedente con lo stesso obiettivo di descrivere la quasi inaccessibilità della salita e notiamo come in questo vassi in San Leo e discendesi in Noli, montasi su in Bismantova in Cacume ehm persino l'andamento del verso richiami fonosimbolicamente eh lo scendere e il salire. Eh la pietra di Bismantova è nella zona dell'appennino parmense e poi si chiude sul Cacume cima del Frosinate il cui nome è calco del latino Cacumen che vale vetta tant'è che a dire il vero taluni testimoni manoscritti lo intendono come voce comune associata al termine precedente per cui diventerebbe semplicemente vetta di Bismantova. Qui dice dunque Dante conviene che l'uomo che con voli che si voli con l'ali snelle cioè veloci e con le piume del grandisio le piume del desiderio. Dante richiama qui due campi metaforici che costituiscono assi retorici portanti della commedia quelli del volo e del desiderio. Si pensi naturalmente al folle volo di Ulisse mosso dal desiderio di vedere il mondo senza gente e allo stremo opposto al volo paradisiaco dello stesso Dante autorizzato da Dio e reso possibile da Beatrice che all'alto volto gli vestì le piume e che guidò le penne delle sue ali a così alto volo. Queste sono due citazioni eh dal paradiso. Torneremo brevemente alla fine su questa idea del volo. Ora e chiedo di caricare la slide successiva possiamo vedere come la via percorsa dal pellegrino non sia solo straordinariamente ripida ma sia anche estremamente stretta. Dante lo sottolinea in più modi la calla che vale callaia è descritta come più stretta di quelle aperture nella siepe che circonda la vigna che il villano il contadino può riempire con una piccola forcata di rametti quando l'uva sta maturando. La similitudine che vedete nella prima nella prima citazione pure domestica è estremamente ricercata nella scelta di vocaboli dai suoni zoppicanti e nella scelta della rima scura e difficile in pruna in bruna. Quella della via stretta e difficile è naturalmente un'immagine evangelica si suole richiamare il Vangelo di Matteo capitolo sette versetto quattordici quanto angusta la porta e stretta la via che porta alla vita e si tratta di un'immagine di facile decifrazione morale. Il cammino della penitenza verso la vita che sempre a norma evangelica è il Cristo io sono la via la verità e la vita è oltre che lungo difficile. Peraltro si noti come nemmeno l'immagine contadina della vigna appare estranea a questa orbita semantica posto che non può che richiamare la vigna del Signore. L'immagine della via stretta torna più volte nella seconda cantica fino alle soglie del paradiso terrestre pur nel calcolato maturare di un progressivo sollievo spiegato proprio in questo canto da Virgilio ai versi 88 e 95 che vedete riportati sulla diapositiva. Quanto più va su e men fa male cioè più si sale e più la salita diventa agevole. Particolarmente rilevata e lo vediamo al verso 23 è la descrizione della condizione di solitudine dei due viandanti con quel soli dislocato a fine diverso che rende bene dopo l'incontro con le greggi di anime sulla spiaggia nei canti precedenti la dimensione personale e individuale della penitenza e dell'esperienza di conversione. Enfatizzato risulta anche il rapporto tra i due viandanti con Virgilio che esorta Dante a seguirlo da vicino. A un certo punto gli dice pur su al monte dietro a me acquista fino a che non incontrino qualche altra scorta saggia. Il povero e umanissimo Dante prega Virgilio di rallentare al che la guida gli indica una meta vicina intermedia alla quale mirare e qui chiedo di caricare la diapositiva successiva. Io era lasso quando cominciai o dolce padre volgiti e rimira com'io rimango sol se non restai. Figliuol mio disse infin qui vi ti tira additandomi un balzo poco in sue che da quel lato il poggio tutto gira. Ora non sfuggirà il sovrassenso allegorico della sottolineatura del rapporto tra i due. Virgilio tradizionalmente considerato figura dell'istanza ragionativa e della cultura classica pagana è necessario al percorso di Dante. A un certo punto Dante scrive che Virgilio speranza mi dava e facea lume al verso trenta. Però in certa misura lo stesso Dante sembra annaspare per tenere il passo di Virgilio. Al contempo abbiamo già ricordato come nel canto precedente Virgilio avesse ammonito riguardo all'esistenza di una certa serie di misteri che la ragione umana non può comprendere. Era lui medesimo dunque a rimarcare i limiti delle proprie conoscenze già ben evidenti nella ricerca della strada per salire il monte. Al momento di spiegare il progressivo alleggerimento del percorso quello che abbiamo visto mano a mano che si sale la salita diventa più agevole Virgilio stesso conclude con un verso questo proposito emblematico più non rispondo e questo so per vero è il verso 96. La sua conoscenza insomma si ferma lì di fatto alla soglia di quel paradiso terrestre sulla quale poco prima di sparire incoronerà finalmente Dante signore di se stesso. Ora almeno a partire dalla pubblicazione nel 1981 della nascita del purgatorio di Jacques Le Goff è ben noto quanto lentamente si fosse affermato il dogma del purgatorio approvato nel 1274 eh quindi in vita di Dante un dogma estremamente recente ed è noto quanto mancassero all'epoca un immaginario e una raffigurazione condivisi eh del regno intermedio. Per quanto tutto l'addilà dantesco sia a quanto peculiare e straordinariamente incisivo nell'imprimere una svolta definitiva eh alla nostra immaginazione dell'oltretomba l'invenzione dantesca della montagna del paradiso terrestre agli antipodi di Gerusalemme alta fino al confine con la sfera del fuoco e che ospita sulle sue pendici il regno intermedio fino alla fine dei tempi è certamente da considerarsi l'innovazione in questo ambito più audace. Un'innovazione che si nutre di un'interazione sapiente tra quelli che sono elementi eh geografico cosmologici spiegati molto bene in questo canto quindi l'opposizione antipodale tra il luogo della morte di Cristo e centro dell'ecumene abitata da un lato e la montagna dell'espiazione e del recupero della condizione adamitica resi possibili dal sacrificio della croce dall'altro eh e lo sfruttamento in chiave morale e simbolica dell'asse verticale del cosmo. Il più importante perché fin nelle sue radici antropologiche ancor prima che dottrinali esso costituisce l'asse principale che va a definire la localizzazione del bene e del male della divinità e degli uomini. L'interazione sapiente che Dante istituisce non è solo fra elementi eh geografico cosmologici e il loro valore simbolico ma implica anche quello che è il richiamo ineludibile ai due simboli biblici che più di tutti eh sostanziano l'asse verticale del cosmo. La montagna sacra e la scala celeste. Se la prima ha molteplici declinazioni si pensi al Sinai dell'incontro tra Dio e Mosè, al monte Sion del Tempio, al Calvario eh anch'esso a Gerusalemme, fino all'Ararath, al Tabor, alla montagna del discorso della Beatitudini, la scala celeste prende invece le mosse dalla scala apparsa in sogno al biblico Giacobbe, alta fino al cielo e percorsa da angeli. Una scala che la riflessione teologica medievale sviluppò in almeno due direzioni e interpretò in almeno due direzioni. Da un lato la scala celeste è una scala escatologica eh cioè una scala che porta a Dio dopo la morte. Dall'altro lato è una scala spirituale, la scala della penitenza e dell'umiltà presa a palinsesto dalla regola di San Benedetto e poi da tutta la tradizione monastica. È facile pur non comune eh negli studi danteschi vedere come la montagna sacra e a gradoni del purgatorio sia a tutti gli effetti una scala escatologica e al contempo anche una scala spirituale e penitenziale. Assomma su di assomi su di sé dunque tutti i valori della scala celeste eh integrandoli con il simbolo della montagna sacra. Torniamo ora al racconto e alla diapositiva che vedevamo prima. Ora giunti su quella che è descritta come una vera e propria cenza, uno scalino di roccia, un balzo ci dice Dante che corre lungo tutta la larghezza della montagna, i due si fermano rivolti verso est e Dante è immediatamente colpito dalla posizione del sole che si trova alla sua sinistra ed è dunque rovesciata rispetto all'esperienza abituale che se ne ha nell'emisfero boreale e questa è eh questa situazione è descritta benissimo dalla miniatura eh che in questo eh punto si trova nella commedia Egerton nove quattro tre della British Library. Vedete che entrambi sia Dante sia Virgilio indicano a sinistra e Dante guarda proprio verso il sole. Ora ricordo che appunto i due sono rivolti verso est è mattina alla fine del canto sarà mezzogiorno e ricordo anche che dopo un primo dietro front sulla spiaggia purgatoriale i viandanti si sono finora mossi sempre verso est il che naturalmente anche se un valore ehm un significato simbolico. Dante si descrive stupido che vale a norma del tesoro della lingua italiana delle origini momentaneamente privo delle facoltà mentali e percettive o motorie in seguito a sorpresa o meraviglia. Una meraviglia che è esattamente provocata ehm da dal riconoscimento di questa situazione che è rovesciata rispetto all'esperienza che ne abbiamo nell'emisfero boreale. Possiamo dunque apprezzare anche attraverso questa questo ehm così questa autodescrizione come continui l'attenzione del poeta per gli stati mentali e i processi cognitivi su cui il canto eh si era aperto naturalmente. Dal riconoscimento della situazione astronomica rovesciata rispetto al consueto prende le mosse una dissertazione geografico cosmologica che risponde alla necessità di spiegare definitivamente e soprattutto al pellegrino perché a noi qualcosa è già stato detto le coordinate e il posizionamento della montagna del purgatorio che vediamo nella diapositiva successiva. Ora qui passo a parafrasare i versi dal sessantuno al seguente. Se Castore e Polluce dice Virgilio, Castore e Polluce naturalmente stanno per la costellazione dei gemelli. Fossero in compagnia del sole cioè se il sole fosse nei gemelli e fossimo dunque vicini al sostizio d'estate vedresti tu Dante vedresti il sole ancora più a nord se non uscisse fuori del cammin vecchio ovvero se il sole ehm non eh uscisse dal suo tracciato abituale il che naturalmente eh è impossibile ma in realtà anche un primo richiamo a un mito che verrà ehm richiamato esplicitamente tra poco quello di Fetonte. Allora per capire questo bene tutto questo discorso continua Virgilio immagina nella mente raccogliendoti in te stesso quanto eh quanto è descritto in questa immagine che potete vedere cioè immaginati che Gerusalemme e questo monte siano collocati sul globo eh terraqueo in modo tale che siano in misteri diversi ma condividano il medesimo orizzonte ovvero questi due punti sono agli antipodi l'uno dell'altro. Ne consegue se l'intelletto tuo ben chiaro bada continua l'enfasi sui processi cognitivi che la strada che mal non seppe carreggiare Feton cioè la traiettoria seguita dal sole non seguita appunto da Fetonte non può che correre lungo due lati diversi per questo monte e per l'altro monte il Sion dove sta Gerusalemme. Cosa vuol dire che eh chi sta sulla montagna del purgatorio vedrà il sole appunto in questo caso alla sua sinistra se rivolto a est chi sta Gerusalemme e stia sempre rivolto a est lo vedrà invece sulla sua destra. Il mito di Fetonte che non riuscì a guidare il carro del sole e lo fece deviare dal giusto percorso era già emerso al momento del volo in groppa Gerione quindi nell'inferno. Tornerà nel paradiso e ancora prima tornerà in rapporto al carro della chiesa nella processione del paradiso terrestre. Il personaggio mitologico con il suo volo davvero folle non può che rientrare nel medesimo gruppo di antexempla in cui sta Ulisse ed è uno dei miti più eh spesso richiamati e letteralmente riscritti eh da Dante. Ora il pellegrino Dante reagisce alle parole di Virgilio affermando una notevole chiarezza di visione mai goduta prima a seguito di spiegazioni su argomenti dubbi. Gli dice ho proprio capito ho capito bene al punto che di fatto ripete lo stesso concetto con altri termini e adesso chiedo di caricare la di appositiva successiva. Dice Dante quello che in alcuna arte cioè in astronomia si chiama equatore celeste che non è altro che la proiezione celeste dell'equatore terrestre. Allora quello che si chiama equatore celeste rimane sempre a metà strada tra la posizione del sole e il punto in cui sulla terra è inverno ecco tutto questo ha un modo piuttosto ricercato per indicare quelli che sono i limiti del movimento del sole che passa da un tropico all'altro da quello del cancro a quello del capricorno. Ecco rispetto a questa linea mediana equatoriale il monte del purgatorio e gerusalemme sono equidistanti. Il purgatorio dista dall'equatore che si trova verso nord se ci poniamo appunto dal punto di vista del del monte del purgatorio quanto gli ebrei a gerusalemme distavano dall'equatore nell'altro emisfero e ovviamente l'equatore per chi sta nel emisfero boreale è verso sud. Potremmo dunque dire che Dante riformula gli stessi concetti espressi da Virgilio eh la la situazione assolutamente la medesima per la definizione della posizione appunto della montagna rispetto a Gerusalemme. Lo fa procedendo per corollari e assumendo quello che è un diverso punto d'osservazione. Se Virgilio avreva preso a punti di riferimento la costellazione dei gemelli e i punti terrestri dove si trovano le due montagne eh di cui si parla Dante identifica il percorso del sole rispetto al globo celeste aumenta ampliando notevolmente lo sguardo. Ora il rilievo e chiedo di eh caricare la prossima eh diapositiva il rilievo non è meramente denotativo. Ben lontano dal confezionare una pedante lezione Dante traccia in questi versi le coordinate geografiche e cosmologiche del suo al di là e del suo percorso individuale attraverso esso. Situa insomma a se stesso niente meno che nell'universo. Torna in mente il titolo di un libro di Patrick Boyd di alcuni anni fa L'uomo nel cosmo. È in questo quadro che si comprende meglio la menzione della costellazione dei gemelli. Necessaria sì alla coordinata astronomica del sostizio d'estate ma al contempo segno del destino di Dante stesso nato sotto il segno dei gemelli. Il poeta traccia il panorama del proprio volo cosmico e lo fa immaginando ovvero disegnando una mappa nella mente. Se vuoi poter pensare dentro raccolto immagina Sion con questo monte in sulla terra stare. Sì che vedrai come eccetera eccetera come può succedere tutto questo se l'intelletto tuo ben chiaro vada. Questi versi sottolineano la possibilità e la necessità di figurarsi le cose nella mente in questo caso addirittura di disegnare una vera e propria cosmografia. L'esperimento mentale funziona al punto che Dante dichiara una piena chiarezza di visione. Egli davvero vede nella mente la mappa cosmica e se stesso in essa maestro mio non vedi chiaro sì come discegna. Nei versi successivi Dante come ogni camminatore di montagna stanco e preoccupato per la strada ancora da fare chiede quanto ancora lunga la salita. Chiede quanto manca. Virgilio risponde enunciando una regola fondamentale del purgatorio che abbiamo già visto prima ovvero quella del progressivo alleggerirsi del cammino mano a mano che si procede. A fronte della mappa cosmica appena descritta i versi propongono un modo e consapevole restringimento del campo visivo una sorta di zoom sulla sola montagna di cui si sono ormai chiarite le coordinate geodetiche. E a questo punto al termine di una lezione certamente ardua che si innesta uno degli episodi più preziosi della commedia una sorta di cameo tra i più cari ai lettori moderni. È la voce di Belacqua riconosciuto e nominato dal pellegrino Dante a irrompere sulla scena con una battuta. Avendo sentito tutto il dotto e compito dialogo tra maestro e discepolo e lo scambio finale su quanto manchi ancora per arrivare in cima egli esclama forse che di sedere in pria avrai distretta vorrai riposarti forse ancora prima di arrivare Belacqua ragione perché in realtà la strada è ben lunga e passeranno addirittura tre notti in cui Dante dormirà. A quel punto ecco al sentire questa voce Dante e Virgilio si accorgono di una pietra che prima non avevano visto e questo ci riporta ancora una volta alle riflessioni su percezione e concentrazione su cui si era aperto il canto. Una pietra descritta addirittura come un petrone dietro al quale si trovano persone come l'uom per negghienza a starsi pone cioè stanno i negligenti che stanno seduti come i pigri. Belacqua in particolare è descritto accovacciato col viso tra le ginocchia un viso che solleva al momento di parlare. Sta quindi in una posizione assolutamente inequivocabile che non a caso si stabilizza ben presto nella tradizione del Dante illustrato come possiamo vedere da alcune immagini nella diapositiva. Qui vedete un manoscritto trecentesco poi anche Botticelli quindi siamo verso fine quattrocento e ancora un secolo dopo Federico Zuccari e che ritroviamo anche e mi chiedo di caricare l'immagine successiva a fine ottocento nel monumento realizzato dallo scultore Cesare e dallo scultore fiorentino Cesare Zocchi a Trento appunto un monumento dedicato a Dante. Infine è questa la posizione che assume il novello belacqua novecentesco Estragon nell'eterna e inutile attesa di Aspettando Godot di Samuel Beckett. Questo personaggio assolutamente emblematico di un meccanismo particolarmente rilevante nella commedia in virtù del quale persone di cui non avremmo notizia e contezza alcuna non solo vengono rese famose e immortalate per sempre dalla poesia di Dante ma si proiettano nel futuro quali simboli potenti e raccolti da altri artisti. Al secolo il nostro belacqua doveva essere parte della cerchia di amici quantomeno di conoscenti di Dante e a quel che ci dicono i commentatori di recente indagati da Franco Sweetner doveva essere un liutaio e anche un valente suonatore. Andrà a lancia ci dice addirittura di averlo ascoltato in compagnia di Dante stesso. Allora lo scambio di battute con belacqua continua con Dante che addita a Virgilio che lo addita a Virgilio indicandolo addirittura quale fratello di Pegrizia al punto che l'altro lo schernisce con un or va tu su che sei valente. Allora continua a te va pure che sei così così bravo così forte così volenteroso. È qui che Dante riconosce e nomina belacqua e nonostante il perdurante affanno per la salita si avvicina a lui che appena alza la testa chiedendogli con tono ancora ironico allora hai capito bene come il sole sta a sinistra strappando a Dante un rarissimo sorriso. Il momento non è da poco basti pensare agli scambi durissimi avuti dal pellegrino con i dannati fino al culmine sul fondo dell'inferno del violento alterco con frate Alberigo verso il quale cortesia fu esservillano eh una citazione da inferno trentatré centocinquanta. Peraltro non è irrilevante credo che della condizione particolarmente allucinata dell'anima di Alberigo e di Brancadoria si ricordasse ancora una volta Samuel Beckett. Nel nuovo regno del purgatorio invece l'ironia e la canzonatura bonaria tornano più tornano possibili torna possibile una misura umana anche nella conversazione. Nel breve seguito Belacqua spiega come non abbia senso per lui darsi pena di salire perché solo le preghiere di un cuore che viva nella grazia potrebbero abbreviare il suo tempo d'attesa nell'antipurgatorio che nel suo caso è pari agli anni di vita. Infatti le anime di questa zona si sono pentite ma solo in punto di morte quindi devono aspettare ehm un numero di anni pari a quelli vissuti. Vengono dunque introdotte due nozioni molto importanti per la comprensione della seconda cantica. Il tema delle preghiere in suffragio dei diffunti già emerso con Manfredi ecco che governa quella economia della misericordia come l'ha definita Carlo Ossola con con sostanziale all'invenzione stessa e alla logica penitenziale del secondo regno e viene inoltre introdotto il tema del conteggio del tempo che i vari gruppi di anime devono trascorrere in quello che siamo soliti chiamare antipurgatorio e che vale sempre la pena ricordarlo è invenzione tutta dantesca. Il canto si chiude sulla sulla citazione da parte di Virgilio a riprendere il cammino perché ormai ormai è mezzogiorno è tocco meridiano dal sole e alla riva copre la notte già col pie morrocco ovvero il sole strata sta tramontando all'altezza del marocco che secondo la geografia dantesca si trova sul meridiano a metà strada tra Gesusalemme e il monte del purgatorio. Torna quindi quella geografia che abbiamo visto in precedenza e torna la scansione del tempo lungo i fusi orari. La menzione del marocco è carica di suggestione perché richiama ancora una volta il folle volo di Ulisse a cui i reni fecero dali e che vide l'un lito e l'altro in fin la Spagna fin nel morrocco. Questi quattro versi finali ci riportano appunto a quella mappa cosmica disegnata da Dante nel canto nella quale possiamo ora compiutamente e definitivamente sistemare tanto il volo necessario di Dante come giustamente lo ha definito ancora una volta Alessandro Ghisalberti un volo dell'anima per cui appunto servivano ali snelle che però richiede anche un immane sforzo fisico e morale e che si dispiegherà compiutamente nei cieli paradisiaci. Al contempo questi versi richiamano il folle volo ulissiaco che si chiarisce definitivamente come viaggio fallimentare all'aldilà finito nel compimento di un destino tanto più tragico quanto resta al protagonista incomprensibile. Sarà forse anche in quest'ottica che andrà letta l'insistenza di Dante sui processi cognitivi sulla capacità di accorgersi delle cose di vederle e di chiarirle capirle fino a tracciare nella mente una carta del cosmo in cui collocare il proprio destino cosa che Ulisse non era riuscito a fare. Ringraziandovi dell'attenzione e salutandovi passo alla lettura del canto nella sua interezza. Quando per dilettanze o ver perdoglie che alcuna virtù nostra comprenda l'anima bene ad essa si raccoglie parca nulla potenza più in tenda e questo è contra quell'error che crede cun'anima sovr'altra in noi s'accenda e però quando so de cosa o vede che tagna forte a sé l'anima volta passe nel tempo e l'uomo non se ne avvede. Altra potenza è quella che l'ascolta e altra è quella che ha l'anima intera. Questa è quasi legata e quella sciolta. Di ciò è bioesperienza vera udendo quello spirito e ammirando che ben cinquanta gradi salita era lo sole e io non mai raccorto quando venimmo ove quell'anime ad una a gridare a noi qui è vostro dimando. Mazzura aperta molte volte in pruna con una forcatella di sue spine l'uom della villa quando l'uva in bruna che non era la calla onde saline lo duca mio e io appresso soli come da noi la schiera si partine. Vassi in salleo e discendesi in noli montasi su in besmanto va in cacume con esso i piedi ma qui convien con voli. Dico con l'ala e snelle e con le piume del grandisio di retro a quel condotto che speranza mi dava e facea lume. Noi salavam per entro il sasso rotto ed ogni lato ne stringea lo stremo e piedi e manvolea il suol di sotto. Poi che noi fummo in sull'orlo supremo dell'alta ripa alla scoperta piaggia maestro mio dissi io che via faremo ed egli a me nessun tuo passo caggia pur su al monte dietro a me acquista finché ne appaia alcuna scorta saggia. Lo somma era alto che vincea la vista e la costa superba più assai che da mezzo quadrante a centro lista. Io era lasso quando cominciai o dolce padre volgiti e rimira com'io rimango sol se non restai. Figlio al mio disse in fin qui vi ti tira additandomi un balzo poco in su che da quel lato il poggio tutto gira. Sì mi spronaron le parole sue che mi sforzai carpando appresso lui tanto che il cinghio sotto i piedi mi fu. A sederci ponemmo ivi ambedui volti allevante onde eravano saliti che sol rigardar giovare altrui. Gli occhi prima drizzai ai bassi liti poscia li alzai al sole e ammirava che da sinistra ne eravano feriti. Ben savide il poeta che io stava stupido tutto al carro della luce ovei tra noi e Aquilone entrava. Ondegli a me. Se Castore e Polluce fossero in compagnia di quello specchio che su e giù dal suo lume conduce tu vedresti il zodiaco rubecchio ancora all'orse più stretto rotare se non uscisse fuor del cammin vecchio. Come ciò sia se vuoi poter pensare dentro raccolto immagina Sion con questo monte sulla terra stare sì che a men due hanno un solo orizzone e diversi emisperi. Ondegli a strada che mal non seppe carreggiare Fetton vedrai come a costui convianche vada dall'un quanto a colui dall'altro fianco se l'intelletto tuo ben chiaro bada. Certo maestro mio, dissi io, un quanco non vidi chiaro sì comordiscerno là dove mio ingegno parea manco che il mezzo cerchio del moto superno che si chiama Equatore in alcun'arte e che sempre riman tra sole il verno per la ragion che di quinci si parte verso Setrentrion quanto gli ebrei vedeva lui verso la calda parte. Ma se ti piace volentier saprei quanto avemo ad andar che il poggio sale più che salir non possono gli occhi miei. Ed egli a me questa montagna è tale che sempre a cominciare di sotto è grave e quanto on più va su e me fa male. Però quando ella ti parrà soave tanto che suo andarti sia leggero come a seconda giuso andar per nave allor sarai al fin de sto sentiero. Quivi di riposarla fanno aspetta più non rispondo e questo so per vero. E come egli ebbe sua parola detta una voce di presto sonò forse che di sedere in pria avrai distretta. A suon di lei ciascun di noi si torse e vedemmo a mancina un gran pedrone del quale né il né io prima si accorse. Là ci traemmo e vi erano persone che si stavano all'ombra dietro al sasso come l'uom per neghienza a star si pone. E un di lor che mi sembiava l'asso sedeva e abbracciava le ginocchia tenendo il viso giù tra esse basso. O dolce signor mio dissi io ad occhi a colui che mostra se è più negligente che se pigrizia fosse sua serocchia. Allor si volse a noi e posimente muovendo il viso pur su per la coscia e disse or va tu su che stai valente. Conobbi all'or chi era e quell'angoscia che mi avacciava un po' con cor la lena non mi impedì l'andare a lui e poscia che a lui fu giunto alzò la testa appena dicendo hai ben veduto come sole dall'omero sinistro il carro mena? Le atti suoi pigri e le corte parole mostra le labbra mie un poco al riso. Poi cominciai. Bell'acqua a me non dole di te o mai ma dimmi perché assiso querito se? Attendi tu iscorta oppur lo modo usato t'ha ripreso? Ed elli o frate andare in su che porta che non mi lascerebbe ira e martiri l'angelo di dio che siede in sulla porta. Prima conviene anche tanto il celma giri di fuori da essa quanto fece in vita perché io induggiai al fine i buoni sospiri se orazione in prima non maita che surga su di cuor che in grazia viva l'altra che val che in ciel non è udita. E già il poeta innanzi mi saliva e dicea dienne o mai vedi che tocco meridian del sole e alla riva copre la notte già col pie morocco. Grazie. 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 Grazie.